Non è facile, sicuro, non è facile, ma noi siamo stati bravi a riuscire a vincere dopo tre sconfitte e niente, siamo stati bravi sicuramente. Senti, infatti, si sentivano solo le urla di voi giocatori, ma quanto urlate, quanto partite, quanto parlate in partita? E quello ti aiuta, quando si sente, è bene quando senti compagno che ti dice dove devi andare, e quello sicuro ha aiutato un po'. Senti, si ha la sensazione che tu, dopo una partenza quest'anno abbastanza timida, dopo il gol di Parma, abbia preso fiducia sul tuo sinistro e tiri da tutte le posizioni? Molto forte, molto potente. E niente, quello gol di Parma mi ha aiutato tanto, sicuramente, e niente, sono contento, sono giovane, devo crescere, devo migliorare, devo allenare e basta. Il tuo futuro sarà ancora qui? Certo, questo dipende da me. Senti, il Milan, terzo in classifica, vi ha dato una brutta giostra l'andata, oggi avete dimostrato di giocare alla pari, se non in maniera superiore. Sì, ma come Milan, non si deve parlare di squadra, c'è una grande squadra, dopo l'andata 5-0 a Milano, oggi siamo stati bravi a riuscire a vincere queste partite importanti. Grazie. Grazie.